Gentili telespettatori, buona giornata. Paolo Berizzi dice che è sbagliato giocare a calcio con quelli lì, cioè quelli del governo. Hanno fatto la partita del cuore dove hanno giocato a calcio Slyne, Renzi, quelli del centrodestra, l'allenatore, il presidente del senato. È una partita di beneficenza, certo che a vederli giocare tutti insieme, ridere, ribaltarsi dalle risate, abbracciarsi è un po' strano. Sui giornali se ne sentono di tutti i colori, se ne dicono di tutti i colori e poi lì fanno come se non ci fosse un domani di amicizia. Sono tutti strami coni, come se si conoscessero e uscissero insieme da una vita, abbracci, risate, sghignazzamenti. Sì, certo che vederli così fa un po' sorridere, no? Ecco. E così Paolo Berizzi, firma di Repubblica, dice che la sinistra non sarebbe dovuta andare a giocare a pallone con quelli lì, con i fasci. Ecco. A questo punto quella partita del cuore c'era per esempio Schlein, Renzi, Ignazio Larussa, Casini, Giorgetti, un campo larghissimo, ha scherzato Lorenzo Fontana, presidente della Camera. Beh, diciamo che questa partita del cuore dove tutti i politici hanno giocato insieme, tutti quelli che avevano un minimo di forma per giocare a calcio, hanno provocato fastidio dalle parti della sinistra. Berizzi, sui social, firma di Repubblica, scrive, capisco la solidarietà e tutto. Ma per fare beneficenza agli ospedali non è obbligatorio giocare a calcio e sganasciarsi dal ridere con i fasci, amici di vannacci e gente che manganella dentro e fuori la rete. Allora, quindi alla fine il problema era ridere o il problema erano le persone? Cioè potevano giocare senza sganasciarsi dalle risate oppure non dovevano giocare? Cioè il problema sono che ridevano e si abbracciavano o il problema è che giocavano con quegli altri? Bene, questo non è dato sapersi, ecco. Insomma, diciamo che su questo punto io direi che ammesso, ammesso ma non è così, ammesso che fossero veramente come li vede Berizzi, no? Si chiama Berizzi, non vorrei Berutti, Berizzi, Berizzi. Ammesso che fosse come dice Berizzi, che quelli là siano... Io credo che comunque, anche se fosse così come dice lui, la partita andrebbe bene perché è con il dialogo che si esce da molte cose, si avvicinano le persone eccetera eccetera. Quindi diciamo che non è vero, ma ammettiamo che avesse ragione questo Berizzi che non si gioca con quelli lì. Invece si gioca tra tutti, si dialoga perché a sinistra io ho notato che non accettano il dialogo, non vogliono il confronto, non si parla con quelli lì. Ecco, non si parla, non si ragiona con loro. Quindi quelli che loro dicono che sono il peggio della società, comunque sono stati eletti e hanno la maggioranza nel paese. La maggioranza del paese diciamo che ce l'hanno da 30 anni, solo che la sinistra in un modo o nell'altro è sempre riuscita a finire al governo. Però il punto è un altro. Qualunque sia la situazione, una partita di calcio dove giocano insieme significa dialogo, significa conoscersi al di fuori anche solo delle diatribe sui giornali, significa proprio conoscersi come persone, non solo come politici ma come persone. e questo è importante per la democrazia. Una partita di calcio dove nella stessa squadra giocano quelli che tutti i giorni se ne dicono di tutti i colori sui giornali è positivo. Caro Berizzi, la democrazia è fatta di confronto, confronto con gli altri, non di con quelli non si gioca, non si parla, non si ragiona perché sono il male assoluto. E no, la chiusura, l'intolleranza, l'intransigenza non è democrazia, la democrazia è un'altra cosa. La democrazia significa ascoltare anche quelli che detesti. Dici, vabbè, dai, dimmi cosa ne pensi, ti ascolto. Poi dirgli la tua. Poi non si arriva a nessuna conclusione perché spesso si ragiona col paraocchi, si ragiona un parolone. Però è importante ascoltare gli altri perché l'intolleranza porta poi a delle situazioni molto serie. Finché c'è dialogo va ancora tutto bene. Quando si comincia a dire tu stai zitto perché tu non conti, decido e comando io, allora si finisce in situazioni che possano portare a una mancanza proprio di democrazia. Ecco, a una situazione illiberale. quindi finché c'è confronto c'è speranza. In tanti paesi non c'è confronto, in alcuni posti c'è gente che cade dalle finestre. Non si capisce bene mai perché. Quindi il dialogo va bene perché quando non c'è il dialogo c'è la gente che cade dalle finestre. Questo ci arriviamo a capirlo. Non bisogna credersi superiori agli altri. Si può avere delle idee diverse, ma bisogna ascoltare gli altri. Cosa fate allora? Non avete amici a destra o a sinistra perché tu sei di qua o sei di là, sei incasellato a destra e non puoi avere conoscenze di sinistra? Sei incasellato a sinistra e non puoi avere conoscenze a destra? Anzi non devi neanche parlare con quelli lì perché sono tutti uguali? Perché noi siamo meglio? Quindi poi quella presunzione di superiorità mescolata all'intolleranza e all'intransigenza porta dritti dritti a uno stato illiberale. Perché ricordatevi che uno stato illiberale non è solo di destra o di sinistra. Gli stati illiberali sono sia di destra che di sinistra. Quindi l'intolleranza, la mancanza di dialogo, con quelli non si gioca neanche a calcio, porta dritto dritto a delle situazioni autoritarie. È un percorso antidemocratico. Non è convinto Berizzi? Ah voi siete i migliori, quelli più intelligenti e comunque sia il dialogo sta dentro la sinistra perché con loro non si parla, perché loro sono quelli già sconfitti nel 1943? Vabbè se la mettiamo così non ne usciamo più. Se continuiamo a dire queste cose qua non se ne esce più. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti e grazie.